Come diceva il direttore, io l'ho seguito dall'inizio e sembrava quasi impossibile realizzarlo perché ci siamo trovati a avere questi fondi statali da spendere pochissimo tempo e non nascondo che ci sono stati dei momenti di scorreggimento, quindi questo è il momento finale e quindi tranquillamente ci tenevo a poter essere presente, quasi come un figlio. Un progetto che ha previsto una serie di azioni, alcune è un tipo infrastrutturale, abbiamo realizzato in ciascuna regione per quello che era possibile operare di infrastrutturazione energetica, soprattutto semialettrica di dove mancava, e poi diciamo attività di promozione comune attraverso il documentario, diciamo uno che è utilizzato con il registro che tra poco vedremo e attraverso questo postale. Grazie, grazie. L'obiettivo che perseguiamo con tutte queste azioni che ci auguriamo di centrare è quello di poter aprire dappure i turisti tutto l'anno, ma in più in modo puntando su questo strumento del turismo che consente a turisti di fare un'esperienza diversa, innanzitutto di ritrovare se stesso al di fuori, diciamo, della vita anche tra le rettici che si trova, e poi attraverso, stando a contatto con la natura e percorrendo orvi, scoprire realtà che sono al di fuori dei classici circuiti turistici, speriamo insomma di aver dato un utile contributo in questo senso. Io posso, non aggiungo altro, passo la parola a Francesco Ranama, che è del studio Ranama e del soggetto giudicatario che ha realizzato, diciamo, ha completizzato il nostro desiderato e ringrazio anche io e i colleghi dell'Agenzia Puglia di Promozione che, come al solito, diciamo, con cui collaboriamo per realizzare l'interdizia dell'assessore auto. Francesco Ranama. Per me, non c'è solo un secondo per passare il microfono, potrei ringraziarti per il lavoro eccellente, è stato fatto anche questo in tempi, rapidissimi, rapidissimi, purtroppo questa condizione permanente da quale c'è per lavorare. Volevo anche ringraziare i due colleghi che invece, dal mio staff, sono presenti stasera, Annetrona e Angelo Fabio Artolico, che si stanno spettando moltissimo sui vari fronti, che ho raccontato, ma anche qui voglio annunciare che stiamo lavorando su un altro internaio, un nuovo internaio per questa fase di dibattito, nuovi programmi di cooperazione territoriale in Italia-Grecia, del quale stiamo ponendo un centro di temi di ostelli. In queste ore abbiamo discusso a proposito a me, sì, di tantissimi tutori. Ringrazio chi ha venito, da questo punto di vista, dei cammini su questo territorio. Stiamo facendo un nuovo straordinario, meraviglioso. occorre adesso fare in modo che questo successo che i cammini stiamo conoscendo, che non è qualcosa di bell'altro. Mi raccontavano i numeri di presenza, quando abbiamo avuto una prova approvato, perché qui fuori c'erano quattro camminatori brasiliani, che non sono venuti a piedi a Brasile, ma non sono venuti a Brasile, ma non sono venuti a Brasile. Tutto questo, questa offerta, questa domanda, che crescono, richiede una necessità di attrezzarsi per poter intercettare questa domanda e per poterla corrispondere adeguatamente in qualità. I programmi, i progetti di cooperazione internazionali, Adriatica, Mediterranea, ci serviranno a lavorare sul fondamentale, abbiamo fatto, abbiamo messo in sicurezza i percorsi, abbiamo messo in sicurezza i percorsi, abbiamo visto i risorsi ministeriali, su questo, lavoriamo invece sull'ostitualità e sull'accoglienza, non soltanto in termini di contento, io tengo molto la realizzazione di un grande progetto ostenti, perché la Cuda, paradossalmente, proprio con questa vocazione, ha una scarsissima offerta ricettiva in termini di ostenti. Stiamo lavorando da un lato su una semplificazione normativa regionale che oggi non agevola l'apertura di ostenti, dall'altro stiamo lavorando anche a un finanziamento massiccio su alcuni ostenti di riferimento che diventino dei modelli di accoglienze, che al solito compino la valorizzazione del patrimonio culturale con un modello di gestione e di offerta innovativo, moderna e che diventino con le principali modalità. È una bella accoglienza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 circa i flussi turistici e soprattutto gli incrementi di questi flussi che si genereranno nel costo del termine. Ci fermiamo davvero qui, abbiamo la parola Francesca D'Anna che ci illustrerà come gira l'automontale che possiamo annunciare che è da oggi online e che è fruibile oggettivamente o per dare. Buonasera a tutti. Sì, è difficile passare dal salto al profano perché la ricorda che per questi due concetti è una delle cose molto più fredde e tecniche della tecnologia però tant'è. Questa è il nuovo portale di andominio cutout.eu che come diceva Garghella deriva dal precedente del REC che è tutto racchiuso, vedete, in questo punzante qui che adesso vi faccio vedere così vi faccio capire da dove proveniamo all'uso di vista del dominio. Quanto lento però. Siamo sul territorio. Allora, finché si apre, poi lo farò vedere dopo. Quindi questo è l'home page del sito principale che si sviluppa su quattro livelli di attenzione. Qui potete vedere una slide show dove ci sono due immagini per regioni che si susseguono con un tempo di qualche secondo e qui sono elencate le cinque regioni. Da questo punto in poi entreremo in ogni cammino delle singole regioni, però prima descriviamo l'home page. Qui sotto abbiamo un piccolo testo introduttivo, la cartina che comprende tutte e cinque regioni continentali del sud Italia, ovviamente di questo progetto, ed è la cartina che comprende tutti i cammini di tutti i tipi, sia quegli affietti che quelli in macchina. Qui abbiamo il video che descrive il bellissimo video di REC che raccolta molto quelli che mette di questi viaggi, tutti i cammini presenti in tutte le regioni senza confini e guardando questo video si capisce bene che in realtà queste leggi sono accomunate da questo senso del viaggio antico, sulle strade antiche, con zona di REC. Poi abbiamo una fascia di servizio, chiamiamola così, dove ci sono delle nozioni su come preparare e per chi volesse ci mettersi per la prima volta che ci avviciniamo. Le applicazioni collegate a questo sito, da stamattina è anche online su Google Play, l'applicazione Android, probabilmente martedì mercoledì sarà pronta, sarà disponibile e fribile pure quella su iOS. E queste applicazioni, quindi su smartphone, consentono di vedere tutti i contenuti che ci sono su questo sito, ma anche, come vediamo dopo, di essere rimandati sull'arricatore Google per raggiungere pochi punti che vengono descritti. E poi abbiamo due importanti pulsanti che rappresentano, diciamo, l'interattività del sito stesso, perché, come dice l'ottima patria, questo è un sito che non deve morire qui, ma anzi deve funzionare l'aspetto verso gli altri siti e verso tutte le cose che si descrivono all'interno. Facebook, c'è una pagina Facebook dove vengono condivise tutte le esperienze di tutti i camminatori e un canale YouTube dove ci sono tutti i video di tutti quelli che hanno partecipato al progetto. Torniamo in alto e intentriamo velocemente in una regione a caso, partiamo nella Puglia. Ogni regione ha, quindi a questo punto, la sua, ovviamente, cartina estrapolata, da quella grande, un piccolo testo introduttivo, il saluto istituzionale, qui abbiamo messo il saluto dell'assessore Capone, e ogni regione, io sto aspettando risposte dell'altra regione, alla possibilità di inserire, ovviamente, il suo saluto della parte istituzionale relativa, e ci sono sulla base tutti i cammini, in questo caso, della Puglia. Prendiamo uno a caso, via Francigia. Naturalmente tutti questi contenuti, tutti i cammini, sono stati prodotti da Angelo, che è stato prima citato, ed è stato tanto un bel lavoro sulla descrizione di questi cammini. Questa è la via Francigia del Sud, quindi anche qui il testo è introduttivo, e quelli che sono i sottocammini, chiamiamoli così, della via Francigia del Sud. Prendiamo la via Nicarelli, da così entriamo in ogni, diciamo, descrizione del sito. Anche qui abbiamo una slide show, un piccolo testo introduttivo, altrimenti i testi devono essere sempre quanto più brevi possibili, perché poi la gente si stancca di stare troppo al computer. E qui incominciamo nella prima parte dell'interattività del sito. Qui abbiamo tutte le tappe, in questo caso, del percorso, della via Ricardica, elencate a sinistra e a destra, e a sinistra abbiamo questa mappa di Google, ed è una mappa interattiva, nel senso che le tappe sono anche riportate qui, che si possono scorrere tranquillamente, e, cosa molto importante, ogni tappa ha la possibilità di scaricare i tracciati GTX. I tracciati GTX, come molti di voi sanno, sono dei tracciati che permettono, attraverso delle applicazioni free, scaricate su smartphone, di poter percorrere ogni tracciato punto per punto, seguendo tutte le indicazioni del caso. Questi tracciati GTX sono scaricati direttamente dal sito relativo, perché molte volte, come Andrew ben sa, possono essere soggetti di modifiche durante il percorso, si trova un monte, eccetera, eccetera. Quindi noi, collegandoci al sito che genera questi tracciati, non corremo il rischio di diventare, diciamo, di ricordare un'informazione vecchia. Siamo sempre aggiornati. E quindi questo, che è il sito della prima tappa, la trova a Lucera, e da qui si scariceremo la nostra traccia GPS, che poi su smartphone, ovviamente, non sul computer, potrà essere letta da queste applicazioni. Queste applicazioni sono riportate in questo piccolo testo introduttivo. Per utilizzare il tracciato GTX da smartphone, si devi scaricare una delle applicazioni libere e ne consiglio un bagno. Le consiglio molto in questo caso. Queste sono tutte le caratteristiche di questo sito, che naturalmente deve essere abbastanza veloce, con l'ecuzione. La cosa bella è che possiamo passare da una regione all'altra, da qualsiasi punto stiamo. Quindi possiamo andare da qui, in Basilicata. E anche qui abbiamo la cartina, il testo, e i cammini. E anche qui abbiamo le macchine Google, slideshow, e i cammini di ogni regione. C'è i suoi. Ovviamente il cammino che comprende più regioni lo troverete in entrambe le regioni, in tutte le regioni. Questa è una raffinativa. e anche qui ci colleghiamo, in questo caso, a un altro sito. Ma non sempre leggere i tuoi, perché siamo sempre lì dentro. Che altro dite? E' un'unica sbattiva. E' un'unica sbattiva. Eccolo. Questo che è il progetto precedente, Interred, che è rimasto pari pari, però, quel pulsante che vi ho visto prima, quindi non abbiamo, diciamo, puntato niente, ma qui abbiamo messo la vecchia. Torniamo nell'auto. Per ringraziare voi, e pure l'informazione di tutti quanti, perché questi lavori sono quelli che mi piacciono il più personalmente, entrare nel turismo, entrare nella, in questo nuovo tipo di turismo, è una cosa che veramente mi raccomandisce. E quindi, ecco perché, io vi lascio i complimenti, ma diciamo che è venuto fuori questo, questo lavoro, che naturalmente verrà sempre imprenditato nel tempo. Grazie a tutti. C'è una domanda che alimenti, o se Carlo vuole o no, aggiungere qualche dettaglio. Certamente, mi piace sottolineare, un dato, verso la continuità tra i diversi siti, non abbiamo smobilitato, l'abbiamo implementato, l'abbiamo appunto proiettato nel presente. È una piattaforma che si presta evidentemente a una serie di integrazioni che presuppongono una gestione di base, sono gli stessi detti che parlano prima, che guardano anche la simulazione, la esperienza, il sito del progetto, ma potrebbe conoscere una serie di implementazioni legate ad esempio, oltre al trattore di patrimoni materiali come quelli che abbiamo visto, una serie di eventi legati al patrimonio immateriale, come questo, che potrebbero sessare gli eventi a fare un rinascimento di un percorso di un'ottorfici in mano. Naturalmente, tutto questo andrà inquadrato in grado di quel progetto complessivo che ha fatto un sistema difficile che un ecosistema di un'attorità del turismo in realtà si tratta in maniera banale dell'evoluzione, dell'innovazione, della trasformazione delle piattaforme che fino ad oggi è più conosciuto, di agendituti e poi di interesse, di DNS, per quanto riguarda prodotti e produzione, il sistema di interagio del turismo e peraltro invece il sistema informativo della cultura del patrimonio culturale giugliese che non esiste e quindi stiamo costruendo un secondo un principio semplice, semplice, è quello della interoperabilità, cioè della possibilità che tutti questi dati diamo tra loro che l'uno rinvia all'altro a partire da due matrici fondamentali che sono progetti già realizzati nel nostro dipartimento, da un lato la carta del turismo culturale, il più grande censimento di patrimonio culturale materiale di materiale mai inizia per una regione con il mistero di turismo, anche su questo posso dare notizie perché carta di bene a brevissimo ci stanno lasciando il collaudo sarà carta di bene è stato fino ad oggi uno strumento d'uso interno delle amministrazioni pubbliche ministero, regioni, comuni, sito e così via dicendo tra qualche giorno diventerà uno strumento open data a disposizione di più per poter avere una chiara ricondizione e dell'immenso patrimonio culturale materiale tunese sarà la base sulla quale si svilupperà ecosistema digitale e piattaforme come queste convergeranno in termini di interoperabilità a carta alla carta la digital library la digital library è la più grande libreria digitale l'unica anzi sicuramente l'unica tra le regioni italiane è possibile far convergere l'eccellenza del materiale audiovisivo letterario librario a fronte di un comitale di relazione ninja esistente che si fa carico gratuitamente della digitalizzazione allo strumento patrimonio anche qui culturale diffuso sul nostro territorio approfitto potrei fare due domande la prima a Francesco per quanto riguarda il sito sarà possibile magari in un futuro vi sentite? si ok ma mi c'è abbastanza quellante non ho bisogno un micro di verificare alloggi convenzionati ristoranti convenzionati o ci si collegherà al DMS semplicemente o semplicemente non è prevista questa cosa perché parliamo solo di cammini e quindi non ci interessa diciamo la un sistema di acquaglienza o come diceva Aldo prima è ancora da implementare il sistema di acquaglienza quindi per ora non c'è ancora volo che sia ufficiale questa è la mia domanda e la seconda la volo ad Aldo non forse perché sia il suo campo però però perché diciamo colui il quale lavora ha ragione questi cammini li stiamo mettendo a posto li stiamo cucizzando la gestione di questi cammini quando dico gestione intendo dire la manutenzione costante e la pulizia che è la parte più importante la gente che viene viene perché ama la natura e se purtroppo su questi cammini ci passa gente ma la natura poi veramente basta uno su mille e il cammino diventa un disastro ad ora il sistema si basa su un volontariato diffuso però il volontariato va bene fin quando parliamo di un inizio io penso che poi la regione dovrebbe cominciare a istituzionalizzare delle figure che servono a monitorare lo stato dei cammini e a controllare sia dal punto di vista della sicurezza quindi non solo mettere in scuola una volta ma sia la pulizia mi domandavo se ci sono delle visioni dei budget futuri per non so magari da segnare proprio ai referenti locali per gestire o associazioni c'è qualche sistema che prevederà la fluidità continuo il progetto va davanti all'infinito grazie anche la prima domanda per rispondere a algo perché in realtà io in questo progetto fanno pari sono solo queste cose che non erano stati previsti implementazioni varie di ostegni e di altre delle ricette però abbiamo anche tutte queste cose e soprattutto anche grazie alle app che sono scaricabili già da oggi con Android e da martedì e da la su più di sé saranno molto utili per essere in questa situazione che uno dal telefonino viene già dove può andare camminando camminando vicino c'è la prima zona di certidità utile che è ci va però lasciamo la domanda direttore per rispondere anche a questo la risposta come io a quello che facevo prima è certo che il prodotto del progetto può essere limitato così vuoto basta appunto dare un mandato noi in questo momento abbiamo delimitato il campo per rappresentare i risultati di un progetto e vi troverete esattamente i risultati di un progetto ripetisco che è necessario che questa operazione rientri nell'ambito dell'ecosistema digitale del turismo perché quello di sistema è già pensato esattamente per mettere a sistema tutti i dati di MS ma tutti i dati della carta dei beni quindi l'incrocio e l'interoperabilità per l'appunto di dare anche ai fini di un altro tipo fondamentale fondamentalistico che è il discorso della profilazione degli utenti noi stiamo lavorando da questo punto di vista con Google come stiamo lavorando con Google esattamente con una serie di complessissimi aspetti legati alla ai casi legata alla gestione dei dati e così che dicendo alla possibilità attraverso gli smanconi perché sono importanti le atti di profilare l'utente pugliese il viaggio per pugliese in cittadino temporale non vi è un dubbio che in questa prospettiva che non è una prospettiva però mi va da venire nel senso che il sistema è già affidato ad una azienda selezionata tra i suoi consi che sta realizzando con nuova pubblica l'organizzazione quindi credo va bellissimo noi avremo gli esiti il tema è proprio la convergenza anche del sistema dei servizi che vanno sicuramente a ristorazione a recettività ma anche i servizi più basilari per l'ospedale alla polizia o ai vigili del fuoco perché vi dice anche i servizi basilari per il camminatore che è un territorio che non conosce poi pensiamo una domanda la mantezione la mantezione per certo questo è il tema dei temi allora ho parlato prima del comitato dei cammini perché sarà quella la sede nella quale noi assumeremo le decisioni perché i modelli possibili di gestione sono tantissime un modello interessante che è un'associazione europea di francese che c'è su un periodo quello toscano che vede in qualche modo una partnership pubblico privata nel senso che ci sono delle organizzazioni locali dell'associazione europea che diventano quelle sentinelle che segnalano poi agli enti territoriali che sono gli unici ovviamente competenti poi di intervenire sia finanziariamente che con i quali appalti per la risistemazione di porzioni eccetera devo segnalare da questo punto di vista accanto a questo sono studiati in una serie di altri modelli anche internazionali adesso Angelo e Anna sono stati in Norveggio qualche tempo fa dove c'è un sistema interessantissimo con questi per il center che sono un altro elemento importante io sono personalmente nella mia portazione orientato sempre per forme di partenariato pubblico e privato in cui il sistema dell'associazione che io auspico sempre più evolvere verso forme di industria culturale creativa e turistica anche in forma copertistica siano differenti che operano concretamente sul territorio poi c'è un fenomeno interessante devo dire che questo è sorpreso da questo pubblico perché come sapete l'appalto per la diciamo l'infrastrutturazione leggera della francigena da una cardianica è stato realizzato dall'associazione dei comuni fuggiani che non è un dato rilevante fatto dire che i comuni fuggiani che alcuni comuni fuggiani insieme alla provincia si mettessero insieme individuassero un capofiglio di comuni sancionati per gestire una serie di appalti di risorse finanziate e realizzate in questo progetto e lo abbiamo fatto a chiudere nei tempi dati e non è un dato parale anche quello è un modello perché impara i salentini per il tratto salentino si sono organizzate attraverso un'altra associazione che mette insieme i comuni coinvolti dal cammino poi potremmo ragionare sui legni provinciali adesso che le province ritrovino una propria identità in un proprio ruolo e un proprio subito possiamo ragionare sicuramente sulla città metropolitana per quanto riguarda la loro diverse province di Bari sono diversi modelli i cui attributi ed elementi caratterizzanti abbiamo ben chiaro a livello di studio io ritengo che le scelte in questo momento proprio su questo sistema di gestione che è quello che riguarda più direttamente la vita stessa dei cammini e dei territori non la debba fare la regione autonomamente ma si avranno il comitato dei cammini in una serie nell'anuale attraverso il dibattito il forum e un coordinamento tra le conclusioni individui il modello più opportuno più idoneo per questo diciamo modello che gli eser sempre originalissimo e se vi permettete sempre all'avanguardia che magari potrà inventare anche una modalità che prima non c'è ma che potrebbe essere quella più adammata del nostro territorio del nostro particolarissimo sistema di cammini so se Angelo vuole aggiungere qualcosa a questo punto di vista sì sì nel senso che comunque anche ieri in apertura abbiamo avvento qualcosa di questo avvento proprio dicendo che è fondamentale i legami tra i punti col privato e in particolar modo con l'associazionismo e con i vari livelli cioè sono di istituzionale regionale comunale fino ad arrivare alle imprese e diciamo alle associazioni e le associazioni come ci sono come diceva il direttore di diversi modelli sono proprio il motore dei cammini stessi quindi anche proprio questo modello di governance delle associazioni dei comuni che qui a loro volta come referenti di associazioni diciamo si riesce a mantenere anche non solo qui il percorso ma anche animarlo offre l'accoglienza perché anche la segnalare il percorso segnalare il termine non è qualcosa che tu fai una volta e rimane congelato ma ha bisogno di una manutenzione annuale banalmente in generale rinfrescare anche le frecce e bernice e questo viene fatto con questo tipo di modello qui perché è importante l'ho detto ieri noi possiamo strutturare il cammino più bello del mondo ma se non costruiamo la cultura del cammino e quindi le comunità devono vivere il cammino come qualcosa di proprio non abbiamo centrato l'obiettivo quindi è già le priorità va bene se non ci sono altri interventi consigliarvi di non perderlo il il road myself di Alessandro perché Alessandro Viva che è portato i miei ragazzi ma tanto lo sa verissimo perché quel film un film proprio rappresenta esattamente il senso delle cose che abbiamo raccontato ma non vi perdete soprattutto gli altri cammini che si terranno nei prossimi giorni per tempo permettendo ma come avete visto oggi il tempo ha lasciato il campo quindi la prevalenza del cammino il cammino le masterclass le proiezioni il grande concerto finale domenica domenica sera quindi buon festa buon mondo e direi ci aggiorniamo già la seconda edizione il prossimo anno ci sarà ancora bella grazie grazie